Voi sapete che io non sono molto legato ai numeri. Lo schieramento in una partita è sempre dinamico dovuto alle situazioni che si verificano. Solo prima che batta il calcio d'inizio una squadra uno può dare delle indicazioni numeriche per voi che vedete dall'esterno. Il gioco quando si evolve porta tutti i calciatori ad occupare delle posizioni diverse anche da quelle che occupano quando sono fermi. A me non piace parlare di un singolo calciatore. Io non vorrei nemmeno che Di Michele sembrasse il salvatore della patria. Anche quando è venuto ed eravamo in B di fronte allo scetticismo di tanti io pensavo a lui come ad un giocatore della squadra di questa squadra da inserire in questa squadra. E' così anche oggi. Certo è il giocatore che per caratteristiche può sviluppare un maggiore dinamismo. Sempre un giocatore capace di attaccare la profondità, di andare nello spazio. E' questo per noi che siamo una piccola squadra che deve difendersi e poi deve contrattaccare. Giocatori che abbiano la capacità di andare nello spazio è molto importante proprio per dare profondità al nostro gioco per sviluppare una manovra di attacco. Certamente l'Udinese in questo momento credo che sia per tante ragioni la squadra più forte in Italia in assoluto. In questo momento perché oltre ad una buona qualità generale dispone di due attaccanti capaci di fare gol e di scardinare qualsiasi difesa. Se nel girone di ritorno hanno vinto tutte le partite, se sono riusciti a dare quattro gol, a fare quattro gol al Milan capolista, vuol dire che hanno delle grandi potenzialità. Poiché magari non ha il blasone delle grandi squadre, chi l'affronta non pensa all'Udinese come una grande squadra. Questa è secondo me la difficoltà maggiore che spero i miei giocatori non riescano a superare. Quella appunto di considerare l'Udinese al pari dell'Inter e della Juve e quindi riuscire a tirare fuori una prestazione di intensità agonistica e tattica di altissimo livello.